La donazione è una pratica che spesso può salvare la vita. Fondamentale a questo scopo è la continua disponibilità di sangue. In proposito, confortante il dato sul numero di donatori proveniente dalla sede Avis di Isernia. Ma vediamo. L'Avis, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha sedi disseminate in tutte le regioni. In alcune aree è presente in maniera quasi capillare. Questo perché la donazione è decisiva in occasione di gravi traumi ed incidenti, in numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi. Si calcola che in Italia servono circa 8.000 unità di sangue ogni giorno. Fondamentale quindi la continua disponibilità di scorte di ogni gruppo sanguigno. A riguardo anche il Molise ovviamente fa la sua parte. Particolarmente incoraggiante il dato della sede di Isernia, che fa registrare un trend in crescita di donatori. Possiamo dire che siamo molto contenti di come si sta ampliando la cultura della donazione del sangue. Infatti è molto sentita. Molti sono i donatori. Soprattutto possiamo vantare un esercito consolidato di donatori. Però certo, più siamo meglio è. Grazie ai donatori che abbiamo e gli aspiranti donatori che ora stanno facendo tutta una serie di accertamenti. Perché prima di essere donatore bisogna rispondere ad un questionario, bisogna fare delle visite mediche e bisogna fare anche dei prelevi del sangue. Perché bisogna garantire la salute non solo di chi dona ma anche di chi riceve questo sangue. In questo modo stiamo raggiungendo numeri record non solo sul territorio sernino ma anche sul territorio molisano e anche al di fuori. Perché è importante donare? Donare è fondamentale perché si dona la vita. Infatti questo è anche il nostro slogan in merito all'evento del 23 giugno. Donare la vita è aiutare il prossimo, è aiutare una persona in difficoltà, è salvare la vita durante gli interventi, durante i momenti di emergenza. Infatti mi permetto di dire che l'Avis di Sernia è sempre stata presente nei momenti tragici come i terremoti che hanno visto colpire l'Italia in quest'ultimo periodo. L'Avis di Sernia ha potuto donare il sangue dei nostri donatori aiutando chi ne aveva bisogno in quelle occasioni.